La Sala Argento ha ospitato un libro tutto di stemmi, la presentazione dello stemmario civico piemontese che raccoglie gli stemmi araldici e l'origine dei toponimi dei comuni del Piemonte, un lavoro che va ad esaurire la collana I Comuni del Piemonte. L'incontro, introdotto da Gustavo Mola di Nomaglio, storico del Centro Studi Piemontesi, ha riassunto il percorso che ha portato alla pubblicazione dei due volumi. Grazie.